Un ventinello affidato nelle mani di Pinazza nella nuova veste di allenatore e giocatore dopo le dimissioni di Bisello Ragno incombe nell'ennesima sconfitta, nell'undicesima gara di fila senza riuscire a siglare una rete. Il Sanzisto invece guadagna tre punti d'oro dopo la debacle fra le mura di casa contro la Ponte Vecchio. Al sesto arriva la prima palla gol per il Sanzisto, palla persa in zona calda da Scappini. Ne approfitta Cerboni che la mette al centro in corna russo ma la sua conclusione esce alla destra di Miccio. Ospiti disegnati da mister Valentini con un 3-5-2, con De Marco fra i pali, Fiorucci, Stelle e Benda nei tre di difesa, Barbarossa Cerboni, Sirci, Salvucci e Siena a centrocampo, russo Verrilli tannendo attacco. Vantaggio Sanzisto che arriva a meno di 15 minuti dopo. Contropiede targato Verrilli russo con il numero 10 ospite che dopo aver superato Scappini serve a rimorchio il puntero ospite che di rapina batte un incolpevole Miccio. L'occasione del pareggio per il Ventinella arriva solo al 37esimo, un errore di De Marco che regala un fallo laterale. Palla che arriva a Pici che serve al centro Marchesini che però a porta quasi sguarnita non riesce ad inquadrare lo specchio. Padroni di casa schierati con un 4-3-1-2 con Miccio in porta, Morucci, Vigarini, Scappini e Pilleri a comporre il reparto arretrato. Marchesini, Mariani e Pici in cabina di regia, Boldrini dietro a Catania e Scei. 5 minuti più tardi è Pici a provarci la distanza proibitiva, il suo mancino è però facilmente neutralizzato da De Marco. Dopo un minuto di recupero arriva il duplice fischio del direttore di gara, con le riprese e il montaggio di Enrico Lucchetti passiamo ai secondi 45. Al nonno della ripresa protestano a gran voce gli ospiti per un presunto tocco di mano in area. Il fischietto di Città di Castello fa però proseguire. Solo 60 secondi dopo è benda di impenserire Miccio, attento però al portiere di casa a respingere il colpo di testa. 20 sul cronometro e Boldrini, semina il panico fra i difensori ospiti, palla al centro più verso Catani che però di testa non riesce ad inquadrare lo specchio. 5 giri di lancetta e ci prova Cardinali dalla distanza, bravo ad intervenire De Marco. Nel primo dei 4 minuti di recupero sono i padroni di casa a protestare, cade in area Catani su un contatto molto dubbio. Ancora una volta l'arbitro lascia correre, termina quindi 1-0 per il Sanzisto. Gigi Caproni oggi era importante vincere in un campo difficile, è stata una partita tosta ma ci siete riusciti. Sì, sì, sapevamo che era una partita difficile perché comunque il Ventinello ha sempre venduto Carapelle. Poi veniva da una settimana che di solito smuove quando c'è il cambio allenatore. Quindi siamo contenti perché comunque abbiamo ripreso un po' il cammino che ultimamente avevamo interrotto, ma purtroppo noi il campionato ce lo siamo giocato un po' in casa. Fuori di casa siamo forse la squadra che ha fatto più punti, quindi però va bene, sono contentissimo sia per i ragazzi, per il mister, per la società, per tutti. Grazie mille.